Pronti? No! Ho tre! Si è aperto! No! In mezzo agli squali? Prima che inizi questo video ragazzi vi ricordiamo che sono aperte ufficialmente le iscrizioni ai foot tour con Star Camp di tutta Italia! Ragazzi non mancate! Mi raccomando quest'anno un sacco di novità, ci sono anche dei super prezzi quindi andate sul sito di fcam.it con i vostri genitori a vedere le tappe. Ci vediamo lì ma adesso iniziamo col video. Sigla! Bene a tutti ragazzi e bentornati su foot tour con Italia. Oggi l'avete chiesta, siamo arrivati a tantissimissimi mila like nello scorso episodio quindi sono meritati la prossima tedesca di potenza! Non so se festeggiare o essere disperato a quanto pare i ragazzi che ci seguono da casa hanno piacere a vederci soffrire. Nel primo episodio avevamo come ospiti Pirlas V quindi ci siamo un po' trattenuti perché si sa con gli ospiti bisogna essere gentili ma oggi tra di noi ci massacreremo. tedesca di potenza di serie A. Andiamo a vedere le regole ma soprattutto se fossimo arrivati a 10.000 like avremmo portato un ospite ma siccome nello scorso episodio non ci siamo arrivati per pochissimo siamo noi. Ma scrivete nei commenti ragazzi quale deve essere il prossimo ospite a sfidarci nella tedesca di potenza perché ve lo porteremo sul canale e lo sfideremo e lo bombarderemo. E sicuramente lui non sarà neanche contento di partecipare. Esatto ma lo costringeremo se arriviamo a 10.000 like lo costringeremo. Detto ciò ragazzi le regole ormai le conoscete la tedesca è uno dei format più amati sul canale che vi piace di più seguire supportatelo con un like iscrivetevi e ora so che tu stai aspettando vai decidi tu chi va in porta. Decide il Milan chi va in porta. Ma importa chi ha meno punti in campionato. Io mi sa che tu è il Napoli. Napoli. Mi sa che tu è il Napoli. Porta Napoli guagliù. Andiamo. Iniziamo a fargli sentire un po' di botte di capodanno questo Napoli andiamo. Per chi non avesse visto il primo episodio è stato fatto in un campo a sete con una porta molto più grande. Troppo facile. Esatto. E oggi ci siamo complicati la vita in una porta a 5 piccolissima quindi le distanze saranno ravvicinate e arriveranno dei siluri. Ricordiamo non si può tirare fuori aria ma ricordiamo anche che il fuori aria sono praticamente 5 metri neanche dalla porta. Si può tirare soltanto di collo pieno di potenza. Chi non tiri di potenza va in porta. Iniziamo ragazzi in questo format è bellissimo. Questo era buono. Se sono il primo ad andare in porta mi hanno mandato al patibolo cercherò di sopravvivere e uscire il prima possibile. Soffrirò per i miei compagni napoletani ma soprattutto cercherò di mettergli pressione dalla porta in modo che sbaglino per uscire il prima possibile dalla porta. Mi raccomando supportatemi. Pregate per me nel caso. Oh solo da fuori aria si calcia forte ragazzi eh. Mi sembra che aria sia contentissimo di questa sfida. Allora. Questa è considerata forte? Va bene dai iniziamo. Mi sento buono contro chi è sotto. Raga incredibile. Per bontà la Juventus è andata in porta. Ha tirato troppo piano. Facciamo 20 punti di giro. È pericolosissimo. Così alti sono. Bello. Gol. Gol di potenza. Eh questa non è male. Guarda che bella questa. Eccola. Palo. Ragazzi c'è tensione nell'aria. Colpito a Napoli. Incredibile. Una regola. È lui. Secondo me è l'unica tedesca dove uno spera di uscire presto. Sì esatto. Che parata. D'acciaio. Dice di no. È lui. Palo palo palo. Ha toccato il palo. L'ha sfilato è vero sì. Palo palo. È molto pericoloso questa tedesca ragazzi. Arriviamo. È lui. A 10.000 likes. Non la facciamo più perché non vale la pena. È lui. Non vale la pena sprecare la propria vita in questo modo. Bello. Boom. Mamma mia. Mi aspettavo di più dal portiere a Napoli sinceramente. No no ma. Come che va ora quanta? Vincini. Fortissimi. Vincini. Ma non ci prova neanche sto Napoli. No no ragazzi. Non ci prova. Bello. Peccato. Mamma mia Napoli. Si perdica. Scusami. È prontissimo. È prontissimo. Stritto per dritto. Hai preso due gol. O tre. O tre. Ragazzi ci spiace per questi portieri che non pare. Vi si prova a pare cosa ne importa. Ma sono tutti i codardi. Attenzione. Ah Napoli vuole subito andare in porta. Cerca l'incrocio ma trova. Eh provavo l'incrocio. Uh potevi pararla questa Napoli. E questa invece dentro. Eh potevi pararla questa Napoli. Non era tanto forte però questa eh. Un brutto spettacolo Napoli per ora. Ha detto che non era forte. Questa era più fortina però è fuori. Bello. Sì. Bello. Oh. È buona. Sì. Potevi pararla questa. Vuoi vedere la parte qualcuno. Sì. Ma Napoli. Sparo. Ai ai ai. Atenaro. Atenaro. Zero gol. E una parata per ora. Boom. Boom. Sì. Eee. Mirama su. Alza che calcio. Rete. Ma questa parata qua non mi sembra quella di Magic Mike. Peccato. Oh. Oddio. Oddio. Tutto bene. Mannaggia ce l'ho quasi. Oh però vorrei un applauso per me che se l'unico non si gira in porta eh. Due. C'ero quasi. Due. Vieni. 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 Allora se tu guarda la palla si sposta nel caso. Non si fa così male. Allora. L'abbiamoci approvato anche Barna. Bene. Si affronta a viso aperto la partita. A viso aperto. Bello. Questa era bella. Questa era bella. Ragazza. È un po' vicino l'altro. Mannaggia. Ha attaccato all'aria quel mafioretti. Vieni. Ma eh calza comunque. Come viene si calza. Allora è nebole secondo me eh. È la neboleina eh. Guarda che di spalle. Sì. È entrata eh. Sì sì è entrata. Ho colpito. È entrata il paletto d'acciaio qua dentro. E poi è uscita. Quindi l'ho colpito e ha fatto anche gol. Cinque. Oh. È lui. Eccolo. Eccolo. Vieni. Bravo così. Ok. È questo. Debole. Te va a fare. La risposta. È debole questa? Debole. Giudicato debole ragazzi. Non ho superato gli 80 km orari. 79. Ebbene sì. Guarda questo è forte. Questo è forte. Ha ragione lui. Ragazzi mi sono accorto che ho un po' paura di scivolare con le Fly Uno che sono delle scarpe fantastiche ma per avere una bella aderenza sul terreno da calcio i tacchetti sono meglio quindi per riuscire a imprimere più potenza e avere più stabilità. Le Fly Uno ragazzi ammortizzano la palla per paleggiare e hanno una sola liscia che è più adatta al cemento o comunque al futsal. Invece qui ho bisogno di essere aggrappato al terreno per tirare delle cannelle quindi cambio come per me. Bello. Bello. Secondo me qua. Scusami non è forte. Ora fuori dai pali. No. Ricordiamo che i fortunati finalisti faranno sfida a rigore di potenza. Tiro. Guarda lì. Guarda che gozo riesce a questa palla. Bello. Buona. Boom. Incrocio pieno dei pali. L'aveva vista Henry però si era messo in traiettoria ragazzi eh. Ha preso l'incrocio alla punta alta e la tua testa è appena sotto. Gilberto. Parata. Questo era vicino e era pure piano. Pam. Ok Napoli. Sì. 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 Prendi di voi che è parata madonna. La luce ha visto. Mi bezzissimo sì. Mi bezzissimo sì. Mi è presa un po' con la mano un po' con il viso. Ragazzi è svenuto. Mi sono più fatto male la mano che la fanno a bugia. Ragazzi. Ah. Sto malissimo. Ti è spaccato lo zigomo? Mi è spaccato tutto Henry. Però hai parato eh. Bravo che hai parato. È importante ragazzi per la parata. E mi spiace però non importa. Non è male. Arrivo di fatto ormai il dolore l'ho provato ragazzi. Adesso peggio di qua. For me la faccetta confia non sono definita. Adesso ci hai avuto l'altro. Nel tuo habitat naturale. La porta. Ecco. E uno. Bellissimo. Bello. Parata. 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 Riga. La fermata è incredibile. Che parata sua riga che si è fatta la Juve. Ma che non è finita. Ma che non è finita. Vai che a terra. Vai che a terra. Comisci ora. Bravo. Guardate quando cadi in mezzo al pacifico in mezzo agli scuoli. È questo. Boom. Para questa. Vai cazzo. Uccidilo. 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 No. Parata del mini nel Napoli. Vediamo se pare pure questa. Siccome vuoi salvarti non vuoi uscire da questa tesca. No non voglio mai uscire cazzo. Vediamo se pare anche questa. Io uno sono a uno cavolo. Questa è la Juve. Peccato. Deve essere dei tiri. Questo è un gol bello. No. Sei il Napoli. Sei eliminato. Hai detto spettacolo. Alla fine non hai parato niente. In croce poi parata di colpino. Bravo. Bella. Ragazzi purtroppo questa prestazione in questa tedesca rispecchia un po' il Napoli in campionato. Stiamo facendo male e partendo dall'allenatore fino al portiere. Avete visto infatti che come portiere... Agli allenatori perché ormai sono diventati 7-8 in quest'anno. Esatto. Ma ti posso fare una domanda. Se tu vuoi dare un consegno a un portiere cosa diresti per un tasco di potenza? Non girarti. Guarda la palla prima cosa. Penso che dovrebbe saperla questa cosa qui. E soprattutto porta una maschera tipo quella di Peter Cech. Quella da ok tipo. Esatto. Quella da ok. Comunque ragazzi buona continuazione. Il prossimo chi è? È la Juve. Il prossimo in porta è la Juve. Buona continuazione ragazzi. Divertitevi. Mannaggia. Tira fuori. Quattro. E' lui. Bello. Bello in volet. Bello. Parata. Poteva pararla qua. Mamma mia. Guardate la forza. Ma la forza. Bello. Il trive è la mano contro valzo. E' questa. Così questa eh. Due. Oh come si è allievo. Cip e ciò. Uno. Oh. Un po' lontani. Cip e ciò. Zero ragazzi. Purtroppo ragazzi. Cip e ciò. Ci sono alleati. E devo uscire. Finalissima però. Datici spettacolo ovviamente. Almeno eh. Tra ragazzi siamo giuditi alla finale. Alla resa dei conti. Bravi. Complimenti per l'alleanza. Non voglio dirlo ma questa volta Juventus ha battuto l'Inter. Due contro uno. Siamo fatti. Ciò possiamo fatti. Bravi. Juve con Milan. Nei partnerci. Perché avete detto le pallettine di 1 e 2. Vai vai. Dai finale. Vediamo il sangue però il finale eh. Sì cagolato ti prego non c'è troppo. Si si è trattato. Potenza. Pugno a zero. Oh sei pronto? Ti spacco un braccio adesso eh. Sei pronto? 400 chilometri orari hai mai vista? No. Adesso la drive. Ma mi sa che anche adesso la vede. Quanto? Guarda qua. Oh. Sei. Scusa. Harry. Sei pronto? Mi spacco le tune le paga Futures Italia. Oh sei pronto? Pronto? Vai. Realmente. Sul tese dell'Italia ragazzi. Vado. Attenzione. Hai voluto calciare forte? Adesso ti fili il gol e vai a casa. Juventus. Scusa. No boss. Pronto? O di qua? Pum. Ma che si è bucata? Si è rotta ragazzi. Guardate qua. È rotenissima. Ragazzi tiro troppo potente. La rete ha seduto. Mamma mia. Pronto? No. Io no. Parco diavolo. Centrale. Ha detto anche. Rimacchiorete. Ha detto se è centrale il tiro. Non è Roberto Carlo? Carlo. Si Carlo. Si. Tra e destro. No. 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 La tortura. La finiamo qua. La sconfitta del mio. E la vince lui Questo lo faccio Per chi mi scriveva che non valevo niente Che perdevo tutte le sfide Si vergognavano di avermi come testimonial Di questa squadra E la vittoria finalmente è arrivato Ragazzi scendete dal carro Dovevate salire sul carro Già da prima ragazzi Eccoci qua ragazzi Ce l'abbiamo fatta Anche questo super video E' finito con la tessana da Juve Che è riuscita a vincere questo turno Più che una sfida ragazzi Questa è una sfida di sopravvivenza Non bisogna morire Facci sapere ragazzi nel prossimo video Chi volete che portiamo in questo format Molto pericoloso Ma ovviamente arriviamo a 10.000 like Per questo format Quindi ragazzi mi raccomando Noi ragazzi ci vediamo in future costar camp Dove le pallonate non saranno così forti Le iscrizioni sono aperte Per iscrivervi basta andare sul sito www.fkm.it Ci sono un sacco di tappe quest'anno Prezzi assurdi Quindi andate sul sito E iscrivetevi